Senta, sembrerebbe che Sofia Loran è più amata dal pubblico americano che non da quello europeo, è vero? Lei cosa ne pensa? Non credo proprio. Come vengo qui per prendere un premio in Italia, non mi sembra... Invece, visti i giornali di oggi, visti il Corriere della Serie di Stamane, l'Italia la ama molto, Sofia. Mi sembra un po' un controsenso, visto che venga a prendere un premio proprio in Italia. Si sente soprattutto un'attrice italiana o internazionale? Io sono napoletana, più che altro. Senta, un'altra cosa, lei è uno splendido esempio di come le donne cinquantenni oggi rimangono attraienti e belle. Quali consigli può dare alle donne della sua età? Ma proprio adesso che sono venuta da un viaggio orrendo, molto travagliata in aereo, di fatto io ritorno in treno oppure in macchina. Grazie e buon soggiorno a Lugano. Grazie e buon soggiorno a Lugano.